buongiorno buongiorno a tutti sono maria di nolfi siete all'ascolto di stampa evangelo buona giornata oggi sarà una puntata molto ricca diciamo molto importante destinata anche forse a fare un po di rumore per via del tema che affronteremo e che trovate in prima pagina oggi sul quotidiano la repubblica il suicidio assistito di un militante dei verdi di sabbia si chiama loris bertocco e di cui parleremo oggi con tutti voi con giovanni fiori alessandra bertozzi michela d'adamo giovanni barbaro cagiuscia longobardi paolo ruotolo gaspedina anna ligiato prima a salutare nicola ocello insieme a mauro olivieri e fiammetta coggi ecco arrivato primissimo giovanni fiori il nostro candidato presidente al municipio roma dieci c'è anche carolina sellitto giovanni barbaro già citato daniela daveri anna ciappa attenzione a questa puntata oggi davvero parleremo di una tematica particolarmente rilevante quella del suicidio assistito che sapete occupa forse il capitolo centrale di o capiamo moriamo essendo evidentemente la morte uno dei temi fondamentali di quel libro l'idea della soppressione del dell'addolorato del malato del disabile del disperato del solo è evidentemente un tema che ci interroga in maniera stringente oggi prima pagina di repubblica il caso di loris bertocco sparato anche nella online come apertura della pagina online dunque si innescherà un dibattito in cui invito il popolo famiglia essere assolutamente presente a tutti i livelli su ogni livello territoriale per far sentire la nostra posizione che sarà inevitabilmente l'unica posizione contraria a far sì che quello che è avvenuto in svizzera venga anche applicato da noi saluto e manuele lobue paola romano vittoria polacci francesca paduzzi simona bartoli giuseppe focone giuseppe brienza anche arrivato insieme a fabrizio ferrari mari angela zoppo la partenza come sempre è quella dal vangelo poiché è arrivata anche mari angela zippo leonardo de stefano giampiero bonfanti anna e vi chiedo di ehm fare una mi piace alla diretta un condividi sulla vostra pagina invitare gli amici oggi la puntata sarà davvero importante giuseppe pizzuti dice la vita è stata equiparata a una mera pratica burocratica saluto anche ottavio deludio marco righi ciccio ferraro latimiro campello del pdf di del fiuli verzi a giulia così come andrea cavenaghi e giampiero bonfanti sono invece del pdf lombardia giuseppe focone e pdf napoli ehm manuela miraglia l'ho citato ottavio deludio il pdf di ciampino meri rossi e pdf di padova grazie a tutto il popolo della famiglia presente grazie a cabobac falamanchi che riconosce eh la camicia di colore stupendo diciamo così saluto valeria de persis moreno lovat cristina zaccanti del pdf piemonte l'addolorata resiste ai pedi e la croce non chiede il suicidio noi dobbiamo aiutare gli addolorati a resistere giovanni mazzotta ottavio deludio l'ho citato c'è gianluca marcucci che saluto eh insieme a luca spinelli a marimar luca spinelli ci ricorda che il 29 ottobre o capiamo moriamo arriva a torino fatemi ricordare che dopo domani sabato ci sarà la grande giornata al teatro sala umberto vi aspetto con costanza miliano padre maurizio botta marco scicchitano per l'unico giorno l'unico giorno dedicato ai quattro moschettieri che tornano su un palco che il palco del teatro sala umberto di via della mercede per la presenza usate per l'interruzione ma qui c'è anche chi chiama in diretta mentre sono all'opera diciamo così ehm è legata la buongiluppia uteri dal coordinamento editoriale dicevo sabato fa due giorni è il grande giorno dell'incontro al teatro sala umberto miliano botta scicchitano di nolfi quattro moschettieri tornano sul palco di ehm per un solo giorno palco del teatro sala e umberto sabato ore 11 ci vediamo a via della mercede 50 ehm vi chiedo intanto di allora mi chiamano e insistono pure bene ehm allora ehm dicevamo 14 di ottobre eh non si interrompe mi hanno un po' telefonato stavolta lo dico a donatella notà funziona tutto bene in realtà ci ehm troviamo dunque eh insieme sabato 14 di ehm ottobre dopo domani alle ore 11 al al teatro sala umberto non ci sarà diretta lo dico a Caterina Braccini sarà riservato questo evento unico a ehm eh a chi sarà presente al teatro ehm eccola Franco Lincetto che arriva in diretta era lui che mi telefonava quindi gli confermo in diretta 6 7 8 da lui ehm in Friuli Venezia Giulia il 7 è già fissata la data di Gorizia per o capiamo o moriamo il 6 7 e 8 quindi 6 8 eh negli altri eh nelle altre province del Friuli Venezia Giulia mi indicherà la Franco se vuole anche qui in diretta con un commento quali sono le 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 presenze da fare eh nelle varie province così anche il Friuli Venezia Giulia diventa l'undicesima regione in cui o capiamo o moriamo in pochissime settimane arriva con la presentazione del libro Andiamo a leggere il Vangelo di oggi, il Vangelo di oggi è il Vangelo di Luca, esattamente i versetti, i nove versetti che seguono l'insegnamento del Padre Nostro che occupa i primi quattro versetti di questo undicesimo capitolo del Vangelo di Luca. Giuseppe Pileio dice ho acquistato il libro ma questa versione Kindle o capiamo moriamo è anche in versione Kindle su Amazon, basta andare lì e la si trova molto agevolmente, siamo anche top ten nella versione Kindle. Dicevo i nove versetti successivi del capitolo 11 del Vangelo di Luca, i nove versetti che seguono l'insegnamento del Padre Nostro, cosa dice Cristo subito dopo averci insegnato a pregare? Dice queste parole. Nei quanti gliene occorrono almeno per la sua insistenza, ebbene io vi dico chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chi chiede ottiene, chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto. Quale padre tra voi se il figlio gli chiede un pane gli darà una pietra, o se gli chiede un pesce gli darà al posto del pesce una serpe, o se gli chiede un uovo gli darà uno scorpione. Se dunque voi che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro celeste darà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Questo è il passaggio, è importante. Hai fede? Lo chiedi con fede? Questo è il punto interrogativo. Bussate e vi sarà aperto, ma se credete che il pane di Dio è il pane che sfama per l'eternità. Questo è il punto fondante, fondamentale. Prima insegnare a pregare i primi quattro versetti dell'undicesimo capitolo di Luca, dove viene insegnato il Padre nostro. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Dentro però al venga il tuo regno, alla fede assoluta nel nome del Signore. Poi la parabola in cui ancora una volta si chiedono i panni, cioè concretezza, no? Però dentro questa concretezza della richiesta c'è anche la forza determinante della fede, che se non c'è non muove nulla. Questo è il tema fondamentale. Il tema della fede credo entri dentro anche la vicenda che dobbiamo raccontare oggi. Vicenda molto dura, allora la riepiloghiamo. Repubblica ha questo scoop, diciamo così, purtroppo uno scoop fatto di morte. È in mano a Concida De Gregorio, che riceva nella notte tra martedì e mercoledì una email che è un memoriale. Memoriale di questo signore, che si chiama Loris Bertocco, 69 anni, disabile, sostanzialmente paralizzato dal 1977 a seguito di un incidente stradale. ha commesso suicidio assistito esattamente ieri in Svizzera. Comincia a Concida De Gregorio, che è quella che ha in mano questo memoriale, in una clinica svizzera. E allora vorrei spiegare a Concida De Gregorio, a Repubblica, a tutti quelli che oggi su Repubblica e a seguito di questo articolo proporranno la legge svizzera in Italia, vorrei spiegare con attenzione a Concida, che dice, non sono intervenuta, era già in clinica, che non esiste nessuna clinica. non esiste di Gregorio nessuna clinica, cari amici di Repubblica, non ci sono le cliniche. Esistono delle associazioni, che si chiamano Exit, che si chiamano Dignitas, facciamo i nomi e i cognomi, così se vogliono ci quarelano, che hanno degli appartamentini, piccoli appartamenti, in cui in cucina si fa la dose di pentobarbital e si prepara l'antiemetico che deve essere somministrato prima del pentobarbital. E in un lettino, in sala, in un normalissimo appartamento, viene costruita la condizione del suicidio assistito, che è costosissimo, è una pratica lucrosa, ogni morto italiano, cominciano ad essere 100 morti l'anno, costa 15.000 euro di tassa, più altri soldi per il trasporto, il soggiorno, le pratiche, eccetera, eccetera. Perché poi si esce cadaveri da là, eh? E quindi sono tutta una serie di ulteriori costi che questa vicenda contrappone. L'associazione si fa pagare per una dose di pentobarbital, il cui principio attivo costa 13 euro, si fa pagare dai 12.000 ai 15.000 euro per il servizio completo, che non viene svolto in una clinica. L'immaginario che ha Concila De Gregorio in testa, che ha Repubblica in testa, che si va nella clinica svizzera, dove i gentili infermiere riportano la dolce morte, racconta qualcosa che non è, non c'è alcuna dolcezza in tutto questo, c'è tanto squallore, c'è il racconto di infiniti condomini di questi appartamentini, che raccontano l'uscita di questi poveretti dei sacchi neri da cadavere, spesso sono sacchi indistinguibili da quelli della spazzatura, è qualcosa di orrendo, orrendo e davvero totalmente privo di dignità, visto che la parola viene usata più volte in questi scritti, è dignità. Signori, il racconto, le 12 pagine del memoriale di Doris Bertocco, lo trovate integrale sul sito di Repubblica in questo momento, è l'apertura del sito di Repubblica, lo trovate riassunto sul giornale cartaceo, dove sopra c'è un articolo di Concita De Gregorio, che dice chiaramente che è venuto a sapere di questa cosa, che arriva la mail di Bertocco una notte tra martedì e mercoledì, con una nota di Gianfranco Bettin, che è il leader storico dei Verdi nel nord Italia, in particolare nel Veneto. Poiché Loris Bertocco era un esponente dei Verdi, è stato anche consigliere comunale, ammira più volte candidato alle comunali e alle regionali per i Verdi, Loris Bertocco era appunto, il memoriale era appunto chiosato da questa nota di Bettin. Concita De Gregorio riceve il memoriale, e qui c'è l'elemento agghiacciante, secondo me, lo riceve mentre Loris Bertocco è ancora in vita. Loris Bertocco morirà nelle tarde ore della mattinata, se ho capito bene, di mercoledì. Concita De Gregorio dice che non si poteva più fare niente, Loris Bertocco era già in clinica, vivo, vivo. Ora io vi dico, se voi siete in giro e trovate su una balaustra di un palazzo, o sul cornicione di un lungotevere o di un lungopo, non lo so, un signore che si sta per suicidare, che si vuole lanciare, voi che fate? Non lo so, vi dico cosa faccio io. Non rispetto la sua decisione, no. Chiamo le forze dell'ordine e cerco di fare qualsiasi cosa sia in mio potere per evitare quel suicidio. Qualsiasi cosa. Lo trattengo per le gambe, faccio qualsiasi cosa. E ovviamente la prima cosa che faccio, chiamo le forze dell'ordine. Perché le forze dell'ordine possono costruire le condizioni per fermare un atto suicidiario che evidentemente dal punto di vista umano mi tocca, ripeto, cammino per strada, avere una persona che sta per buttarsi di sotto. La mia prima decisione non è rispetto la sua privacy, s'andassi a sfracellare. No, la mia prima decisione è chiamare tutti quelli che possono impedire questo suicidio. Bene, con Cira De Gregorio riceve il memoriale martedì notte, poi comincia a sentire gli amici che gli dicono, lascia fare, lascia fare. E ormai è in clinica. Non è in clinica, lo ripeto, non esiste... Alcuna clinica. Non esiste alcuna clinica. Esiste questo appartamentino squaldito dove per 15.000 euro si mette in condizione, un povero Cristo, di porre attraverso il Pento Barbital una fine suicidiaria alla propria esistenza. Facendo leva, facendo leva, su una condizione di disperazione attivata semplicemente per soldi. Perché se voi chiedete il Pento Barbital e non avete i 15.000 euro, gli svizzeri tanto umani non ve lo danno mica il Pento Barbital, eh? Vedere denaro, guadagnare cammello, è semplicemente una transazione di mercato. Allora voglio dire a concilia De Gregorio che se doveva fare qualcosa di giusto, doveva allertare immediatamente l'ambasciata italiana Berna e chiedere l'intervento delle forze dell'ordine immediatamente suscitare un caso internazionale perché non se ne può più di questo mercato sui disperati italiani che viene costruito dalla Confederazione Elvetica che si disinteressa a questa procedura con cui vengono soppressi contro l'Egem secondo le indicazioni del diritto italiano che è estremamente più avanzato rispetto al vergognoso diritto svizzero vengono costruite le condizioni delle morti dei nostri malati perché quello che non si può fare in Italia che non si può fare in Italia perché ci sono delle norme che grazie a Dio tutelano la disperazione, il malato, il sofferente da un gesto distruttivo finale non è che siccome si fa oltre i confini allora non ci interessa nulla. Ripeto, se troviamo il ragazzo o la ragazza o l'anziano o la persona di sabbia o l'affaticato su una balaustra del Colosseo o di un palazzo o del Lungotevere noi chiameremmo inevitabilmente perché la nostra umanità ce lo fa fare le forze dell'ordine non diremmo buttati giù rispetto alla tua privacy non funziona così l'umanità, vorrei dire la nostra radice cristiana ma non posso dirlo se no proprio divento un bicotto l'umanità pretende questo tipo di intervento invece Repubblica fa un'altra scelta telefona a Bettin che evidentemente sosteneva questa decisione di Bertocco diceva vabbè lascia fare ormai è in clinica ormai è in clinica come dice la Pongiluppi cioè sì il consolato a Berna e poi l'articolo come lo scriveva perché qui bisognava fare l'articolo bisognava fare lo scoop bisognava fare la prima pagina bisognava dire che ci vorrebbe in Italia una legge come quella svizzera e invece no e invece no noi siamo qui come popolo della famiglia con chiarezza a dire che la legge svizzera è una vergogna dal punto di vista dell'umanità è un crimine nazista quello di eliminare i disabili persino a pagamento e che tipo di pagamento? invece Repubblica ci dice che qui le motivazioni di Bertocco sono di natura economica perché non ce la faceva più e allora andiamo a leggere il memoriale di Bertocco che è un memoriale impressionante il documento è molto importante giornalisticamente racconta la sofferenza di questa persona tutta la vicenda completamente da tutta la vicenda e c'è un punto di snodo della vicenda e lo racconta con un capitolo che lui apposta in titola la separazione da mia moglie il progressivo peggioramento complessivo ha portato nel 2011 mia moglie a non riuscire più ad affrontare la situazione che negli ultimi anni si era resa estremamente complicata anche per lei è diventato sempre più difficile fare fronte a tutte le mie difficoltà che erano cresciute progressivamente il fatto che la mia assistenza gravasse quasi completamente su di lei e che dovesse affrontare faticosamente quasi da sola la soluzione ai problemi quotidiani l'ha portata ad una situazione estrema cioè la richiesta della separazione questa scelta di Anna Maria che ha aggiunto sofferenza a sofferenza è stata difficile da metabolizzare e ha avuto su di me delle forti ripercussioni emotive ma che cavolo d'altro doveva scrivere questo per farvi capire dov'è la motivazione profonda che innesca la spirale che porta al suicidio cosa altro doveva scrivere questa scelta di Anna Maria ha aggiunto sofferenza a sofferenza è stata difficile da metabolizzare ha avuto su di me delle forti ripercussioni negative più avanti il memoriale racconta che all'arrivo nel 2013 incontra una badante Mirela molto brava e paziente mi assiste tutto il giorno anche nei giorni festivi anche quando ha avuto problemi di salute non ha mai rinunciato ad assistermi comunque se non fosse stato per la sua indispensabile presenza sarai sicuramente ricoverato in qualche istituto dopo tre anni e mezzo di lavoro nei quali si è concessa solo due brevi periodi di riposo è anche lei arrivata ad un notevole livello di saturazione sia fisica che psichica con il rischio di un suo reale cedimento da un momento all'altro trovare un sostituto per i suoi periodi di ferie è stato molto difficile e negli ultimi anni proprio nell'ultimo periodo Mirela lascia questo ruolo questo lavoro il dato fondamentale è che è la solitudine la mancanza di solidarietà a uccidere quest'uomo a uccidere Loris quello che racconta Mirela dopo quattro anni con me non ce l'ha più fatta a seguirmi quotidianamente e quindi dallo scorso giugno ho dovuto cercare assistenza mettendo degli avvisi sui siti non è facile però trovare personale adeguato alla mia situazione deve essere disponibile 24 ore al giorno non è stato possibile sostituire Mirela ho trovato soltanto personale improvvisato che provava a fare il lavoro di cura senza preparazione e dedizione adeguate pensando che potesse ridursi a piazzare il paziente davanti a un televisore o a metterlo a letto dandogli un'occhiata ogni tanto per non dire di peggio di chi pensava di approfittarsene credendo di poter giocare con sentimenti desideri bisogni della persona questo memoriale va letto tutto e va letto così questa persona è stata offesa in ogni probabilità in sentimenti desideri e bisogni da personale che ha provato a giocare potremmo immaginare qualche badante che ha provato a giocare con questi sentimenti con questi desideri approfittandosene questo leggo io in questo memoriale leggo un uomo che nel 2011 viene lasciato dalla moglie e dice lui di aver pagato un fortissimo prezzo sul piano emotivo a questa situazione di frattura familiare aver incontrato questa badante che lo aiuta per quattro anni Mirella che però poi non ce la fa più e desideri poi ritrovato solo davanti a personale come dice improvvisato o di persone che pensavano di approfittarsene credendo di poter giocare con sentimenti desideri bisogni della persona il quadro che racconta questo memoriale è il quadro di una solitudine devastante il suicidio arriva alla fine di un percorso di solitudine non per una dimensione di bisogno economico Repubblica scrive il primo caso in cui il suicidio assistito viene motivato da ragioni di natura economica in tutte queste dodici pagine di memoriale il bisogno fondamentale è un bisogno di amore di attenzione e di cura di amore di attenzione e di cura è questo che manca è la solitudine della famiglia fratturata che comincia a innescare la spirale che porta questa persona ha la decisione di farla finita ma lo capiamo o no ma lo capiamo o no che è dentro la solitudine che si costruisce questa disperazione e pretendiamo che una volta abbandonato dalla comunità come dice Giuseppe Fogone ci sia una legge che elimini questo problema per altro a pagamento come in Svizzera nella clinica che è quella che secondo concida De Gregorio è una clinica è che è un banalissimo bilocale dove in cucina fanno l'intruglio col pento barbital e in cameretta ti ammazzano per 15.000 euro non gratis non per un atto di pietà per un atto di commercio sulla disperazione degli uomini degli ultimi della terra e voi pretendete che davanti a questo non ci sia una inevitabile reazione di un popolo che vuole difendere il proprio impianto giuridico l'impianto giuridico italiano che è profondamente sano mentre quello è un impianto giuridico incivile barbaro e dobbiamo berci queste minchiate di Repubblica e oggi vedrete fare il dibattito sotto su un unico versante perché verrà fatto su un unico versante e nessuno che chieda conto a concida De Gregorio perché non hai fatto di tutto affinché questo uomo non morisse come avresti fatto se l'avessi incontrato per strada appesa a un cornicione di un qualche palazzo perché invece di chiamare Bettin l'amico e complice sodale non hai chiamato le autorità elvetiche non hai chiamato l'ambasciata italiana in Svizzera non hai detto basta a questo commercio di morte vergognoso sulla pelle dei cittadini italiani più deboli e disperati in non capiamo moriamo c'è un capitolo molto lungo dedicato all'eutanasia un capitolo che ha dentro anche vicende ed espressioni del dolore personale che mi ha attraversato su questa tematica che sapete essere particolarmente cara alla mia sensibilità personale leggete i numeri di o capiamo o moriamo se apriamo il cancello a queste normative facendoci abbindolare da una comunicazione come quella di Repubblica di oggi noi apriamo i cancelli all'inferno noi apriamo i cancelli all'inferno chi è che difende l'Italia da tutto questo solo il popolo della famiglia solo voi amici miei solo voi in questo momento state sentendo queste parole sapete che sono parole di verità e allora vi prego fatele ascoltare a più persone possibili fate mi piace la diretta condividete questa diretta che è fondamentale sulla vostra pagina invitate gli amici a seguire questa diretta e date a ognuno la possibilità di accedere a queste che sapete essere parole di verità Laura Quarta dice non ci consideranno mai un contraddittorio sui temi della vita saluto anche Fiorenza Pasini che dice sono parole di verità Rosa e l'onore degli espossi poi ci meravigliamo se il popolo polacco prega in massa la Madonna è arrivato anche Barbara Moi Leonardo De Stefano Repubblica è diventato un cogliano satanico Daniel Abruzzo il problema è che nessuno crede all'inferno anche Anna Scapina è proprio vero caro Mario la solitudine devastante che uccide l'uomo la mancanza di amore ma come si fa a non capire li accompagnano pure invece di parlare a queste persone saluto Bobac Falamachi dice grazie Mario la voce di tanti italiani sani saluto Roberta basta Alex Zino Finori la famiglia è il reticolo che protegge i più deboli distruggi la famiglia distruggi la vita è così saluto Franco Brindisi Don Francesco Colamonaco cattolici e preti che leggono questo quotidiano come la Repubblica per carità dovrebbero vergognarsi bravo Don Francesco Salvatore Salatini dice dimagrisci capito diventa tutta questa cosa seppure il cretino che non ha niente da fare e viene a perdere tempo Don Massimo Lapponi fa la domanda ovvia dove ha preso i 15.000 euro se aveva tanti problemi economici Emiliano Velasco in meno di 20 anni la cultura della morte ha viaggiato alla velocità della luce ragazzi leggete o capiamo o moriamo o capiamo o moriamo vi spiego perché questa cultura della morte ha fatto così passi da gigante perché serve ad abbattere i costi del welfare per ogni loris che si ammazza il welfare risparmia e loro vogliono che siano migliaia decine di migliaia quelli in questa condizione che come in Olanda Belgio Lussemburgo e Svizzera ogni anno invece di gravare sui costi del welfare della sanità si uccidano perché la Pento Barbital costa 13 euro mentre assistere l'Oris costa centinaia di migliaia di euro e l'unica motivazione è questa leggete i numeri i numeri ritrovati non capiamo o moriamo l'unica finalità delle politiche eutanasiche sono è la finalità di controllo dei costi della spesa sanitaria come in Charlie Gard come in tutte queste vicende sono vicende che hanno a che fare con meccanismi di controllo di spese sanitarie che altrimenti appesantirebbero completamente il welfare questa è la ragione è una ragione di tipo economico ricordatevelo sempre il Pento Barbital principio attivo costa 13 euro la cura di un malato come l'Oris per un anno costa centinaia di migliaia di euro e il sistema vi indirezzerà sempre più evidentemente a scegliere la via della autoeliminazione per non dover pagare la cura la cura è questo il tema fondamentale e la nostra battaglia come popolo della famiglia è lasciateci essere famiglia tutelate la famiglia strutturate la famiglia perché solo dentro l'amore gratuito dell'unità familiare le persone come l'Oris si salvano e il racconto di l'Oris è esattamente il racconto di questo quando si frantuma l'unità familiare e la moglie non accetta più di essere moglie in cattiva sorte e se ne va lì si comincia a innescare una spirale che conduce questo uomo al suicidio questo è un dato di fatto la soluzione è solo rafforzare la struttura familiare non indebolirla sempre di più capite qual è la motivazione di natura economica e io capisco persino quelli che ti dicono ah ma qui bisogna fare i conti col welfare allora vi dico l'alternativa a un welfare di stato che non regge più è rafforzare l'istituto familiare se voi invece volete abbattere i costi del welfare con l'eutanasia e in più anche abbattere completamente l'istituto familiare con i vari divorzi brevi unioni gay e tutte le puttanate che avete approvato in questa legislatura voi costruite una società di natura infernale è una società di disperazione e non dovete poterlo fare per questo il popolo famiglia si oppone nettamente a qualsiasi politica di questo genere è l'unico soggetto politico a farlo con questa nettezza salutiamo Lorenzo Damiano le preghiere per sua mamma sono spero in qualche modo attive da parte di tutti la mia mamma è in ospedale mai penserei di togliergli la vita anzi ogni giorno di Dì che Dio le dona è gioia pura Barbara Giacovelli sistema infernale in uno stato infernale in una società infernale hanno costruito pure un mercato pauroso come dice Leonardo ed è verissimo Nicola Di Matteo dice se è Dio nella vita tutte le risposte arriveranno al pettine e ribadisco la famiglia salverà il mondo la famiglia naturale composta da papà mamma e tanti figli Anna Ciappa dice vita e morte sono un business e non aiuteranno mai la famiglia Roberto Mura dice noi che difendiamo la vita veniamo additati come cattivi e spietati pensate un po' noi siamo quelli cattivi capito non con Cida De Gregorio che chiama Bettina e poi dice vabbè sta in clinica e ormai sta in clinica quindi in clinica ma l'hai fatto mai un viaggetto in questi posti per vedere come sono fatti va giornalista dei miei stivali cioè andate a fare i giornalisti fate i giornalisti e raccontate la verità cari amici di Repubblica andate a vedere veramente cos'è questa famosa clinica andate a guardare oh basta youtube beh non è difficile insomma per capire di cosa stiamo parlando Giovanni Fiori dice l'inganno sta nel vedere in questo tipo di suicidio la forma suprema di autodeterminazione mentre invece è solo la disperazione dell'uomo senza Dio dell'uomo senza moglie anche perché poi dobbiamo pensare anche che queste persone possono non avere fede ma non avere fede è costruire una società che costringe il deluso il disperato l'addolorato l'ammalato l'affaticato ad autoeliminarsi perché è non più produttivo vuol dire costruire la società del Big Brother orwegliano siamo dentro un un atteggiamento folle perché il Big Brother orwegliano è una società che alla fine priva chiunque della dote fondamentale che questi vorrebbero difendere che è la libertà Danilo Bassan dice chiaramente non dobbiamo seguire la moderna Svizzera non c'è niente di moderna e progressista nel costruire un sistema giuridico che abbatte i più deboli a pagamento è semplicemente una vergogna barbara un sistema barbaro e non a caso l'Italia terra della luce del diritto che ha illuminato con il diritto che era immaginato e pensato sempre per sostenere i soggetti più deboli oltre a essere culla della cristianità che ha rotto i legami della schiavitù le catene degli schiavi e liberato gli uomini allora davvero dobbiamo saper costruire una società dove la nostra cultura giuridica sia prevalente rispetto a una cultura giuridica barbara come quella Svizzera che ha consentito il commercio sul dolore sulla fatica di vivere della gente saluto Silvia Lucchetti Francesca Patuzzi Andrea Valerio che dice suor Lucia di Fatima aveva proferizzato che la battaglia finale tra Cristo e Anticristo sarà sulla famiglia Anna Bartorelli Salvatore Salatini insiste con le sue puttanate sei libero di andare in giro così grasso perché io non posso decidere di morire perché caro Salvatore perché non è libertà la libertà che sceglie il nulla è così evidente libertà non è fare quello che uno vuole libertà è la scelta per il proprio bene è scelta per il proprio bene se volete persino per il proprio vantaggio non può essere scelta per il mal assoluto cioè il nulla cioè la morte talmente evidente oggi ragazzi sarà giornata da battaglia ve lo dico su queste tematiche ci saranno da confrontarsi dovremo assolutamente dare battaglia in tutti i luoghi della comunicazione io darò un'intervista radiofonica tra pochi minuti a Radio Cusano Campus se volete dalle 9 e 10 sono in diretta a Radio Cusano per ribadire questi argomenti parleremo anche della vergognosa offensiva di questo sito che ormai ha un'ossessione per le mie figlie ogni giorno fa un articolo sulla tette sulla vagina delle mie figlie e mi sembra che questo linguaggio ossessivo comincia a determinare un atteggiamento da stalking e forse anche un pochino pericoloso non è un linguaggio come dire sereno da persona che non ha evidentemente delle turbe psichiche poiché questi non sono commenti su Facebook rivolti alle mie figlie ma addirittura articoli che ogni giorno finiscono in Google News perché Gayburg è considerata fonte di informazione ora è forse il momento è arrivato il momento in cui poniamo anche un basta perché dopo che ogni giorno 8, 9, 10, 11 ottobre devo trovare articoli dove l'articolista evidentemente sempre lo stesso utilizza queste espressioni volgari violente sessiste adinolfi che si fotte le mogli sempre queste espressioni di questo genere e in particolare nei confronti di bambine Clara come sapete a 7 anni insomma mi sembra che sia arrivato il momento per dire ora basta a questi signori che ogni giorno pensano di poter liberamente disporre addirittura della dignità di una bambina di 7 anni quindi mi aspetto una risposta visto che per Francesca Barra o per Laura Boldrini c'è l'esegrazione universale chissà forse anche per una bambina di 7 anni che viene ogni giorno e non su un commento sui social network ma su un sito di informazione considerato luogo di informazione da Google e quindi che poi va a descrivere la personalità mia attraverso questi articoli beh insomma forse è arrivato il momento di dire anche basta ogni giorno è troppo perché adesso siamo arrivati a ogni giorno ogni giorno con questa ossessione lo ripeto per la parola tetta vagina fottere tutto legato alla figura delle mie bambine fino a quando non hanno augurato a quella di 7 anni di impiccarsi bambina ai 7 anni di impiccarsi per la sola ragione di essere mia figlia questo è quello che si paga ogni giorno lo vorrei dire a fare questo tipo di battaglie lo si paga non serenamente perché ovviamente questi temi poi portano anche discussioni in famiglia non è facile tutti i giorni tutti i giorni che Dio manda in terra subire questo tipo di massacro però andiamo avanti e diamo battaglia ogni giorno per quello che è giusto fare perché anche oggi se non aveste sentito stampa e vangelo vi assicuro che non avreste trovato alcuna altra voce che provava a darvi su Loris Bertocco un altro punto di vista un altro punto di vista rispetto a questa tristissima vicenda di suicidio assistito che oggi attraverserà giornali telegiornali programmi di intrattenimento l'altro punto di vista vi assicuro l'avete ascoltato solo adesso fatevene portavoce andate fuori da stampa e vangelo a parlare con le persone e spiegate perché il popolo la famiglia è un'alternativa forte e credibile anche perché noi paghiamo di persona il prezzo più pesante che si può pagare per la testimonianza delle proprie idee è vero Gesù ci ha avvisati in nome mio sarete perseguitati ma vi assicuro fatevi una settimana delle ultime 160 nei miei panni e vi assicuro che fareste fatica diciamo così fareste fatica una settimana nei miei panni va bene ma comunque come si dice abbiamo avuto la bicicletta e pedaliamo andiamo a pedalare è vero perseguiranno me perseguiranno anche voi tutto tutto bello qualche giorno è faticoso ritrovarsi in queste condizioni ma comunque si battaglia e si fa quello che si deve come sempre vi chiedo un mi piace un condivido a questa diretta che sarà come al solito l'unica voce alternativa che ascolterete sul caso di Loris Bertocco se volete alle 9 e 10 proverò a replicare queste argomentazioni anche a Radio Cusano dalle 9 e 10 del mattino tra pochissimi minuti dunque Radio Cusano per far sentire anche da lì la nostra posizione su questi argomenti così delicati Damania di Norfi per oggi è una buona giornata a tutti voi noi ci ritroviamo come sempre domani alla stessa ora a 8 e qualche minuto per la puntata conclusiva della settimana diciamo fediale di Stampa e Vangelo Damania di Norfi una buona giornata grazie a tutti grazie a tutti